Oggi vi do un'idea per San Valentino, ma non solo per San Valentino. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. È giunto finalmente il periodo dell'anno in cui si pensa all'amore. Voi mi direte, ma noi pensiamo sempre all'amore, dedichiamo sempre il nostro tempo al nostro lui o alla nostra lei. Eh sì, ma è San Valentino e purtroppo questa festa sta diventando troppo consumistica. Facciamo vedere al nostro lui o alla nostra lei che pensiamo sì al nostro amore, ma che facciamo qualcosa per lui con le nostre manine. E allora ho pensato per voi un progetto di riciclo con decorazione a pisla, che so che adorate perché me l'avete chiesto veramente in 250.000. E allora cosa faremo? Ricicleremo una bottiglia dello shampoo e la decoreremo con i pisla e la trasformeremo in qualcosa di veramente veramente carina. Diventerà un porta ricarica cellulare. Che cos'è? È una taschina in cui mettere il cellulare e appenderlo alla presa di corrente in modo da poter ricaricare il nostro cellulare in qualunque posto noi siamo. Siamo alla posta, si scarica il cellulare, che problema c'è? Non dobbiamo appoggiarlo per terra. Lo mettiamo nella nostra tasca, inseriamo la presa, poi vi farò vedere com'è con la presa inserita e il nostro portacellulare reggerà il cellulare mentre lo si carica. Allo stesso modo il nostro fidanzato vuole avere sempre la nostra taschina portata di mano e allora la mette in macchina, la appoggia lì e lì il cellulare è assicurato, sempre nello stesso posto, è protetto e da lì si può anche ricaricare. E allora spero che questa idea vi piacerà. Vediamo come realizzarla insieme spostandoci sul piano da lavoro. Corrente per preparare il nostro portacellulare da regalare per San Valentino al nostro amato o alla nostra amata. È un progetto di riciclaggio che non ho inventato io, l'ho visto su internet, però la personalizzazione ho voluto farla originale arte per te. Allora cosa facciamo? Almeno io così non ne ho visti come li faccio io. Prendiamo delle bottiglie di shampoo, ma abbiate l'accortezza quando le scegliete che il vostro cellulare stia di larghezza al suo interno. Vedete? Il mio ci sta. Per rimuovere l'etichetta senza lasciare residui di colla, ora vi dico come si fa. Riempite, allora svuotate le bottiglie e lavatele per bene. Dopodiché riempitele di acqua bollente, l'acqua del rubinetto normale, però calda, e lasciate così per 2-3 minuti. Dopo 3 minuti cominciate a togliere la pellicola, vedrete che verrà via facilmente senza lasciare residui. Se dovesse lasciare un puntino di colla, non lasciatela voi, ripoggiate la cartina e a modice retta, strap, strap, cominciate a staccare. Vedrete che la colla dell'etichetta richiamerà la colla della bottiglia e la porterà via e piano piano verrà via tutta, sia sul fronte che sul retro, perché anche questa trasparente è un'etichetta. Fatto ciò, quello che avremo sarà questo, quindi una bottiglia bella pulita del colore che desideriamo o del colore della bottiglia di shampoo che vogliamo reciclare. Un buon tagliabalza, oramai sapete qual è un buon tagliabalza e per questo progetto ci serve veramente veramente buono. Un pennarello e poi io per decorare il mio portacellulare userò i pisla Ikea, che sono queste perline che si usano per termofusione, cioè stirate, poi si fondano assieme a creare una figura, ora vedremo come, ma che non vende solo Ikea, le trovate anche da Tiger, così come da Tiger trovate anche i tappetini per fare le forme e naturalmente io per San Valentino ho scelto un bel cuore, una pistola a caldo, della carta forno e il ferro d'assilo, che non ho qui, vabbè, ma un ferro d'assilo, sapete tutti com'è fatto? Cominciamo subito a creare la sagoma del nostro portacellulare, che chiamare portacellulare è riduttivo, perché non è un portacellulare, è un carica cellulare, cioè è uno strumento che ci permette di attaccare il cellulare alla presa di corrente e tenerlo all'interno. Prendiamo un pennarello e disegniamo la sagoma di quello che vogliamo diventi il retro del nostro portacellulare. Io poi, casomai, sulla pagina di Arte per Te, sulla pagina Facebook di Arte per Te, vi lascio la foto della sagoma in modo che voi possiate copiarla con maggiore certezza, anche se è veramente facilmente intuitivo, perché io sto proprio seguendo la sagoma dello shampoo qua. Ok, da una parte e dall'altra e poi l'importante è misurare dalla base all'attaccatura che siano gli stessi centimetri, quindi io lascerò sette centimetri in altezza di qua e sette centimetri in altezza di qua quindi congiungo questa linea ok, quindi dovrò praticare questo taglio sul davanti, poi andare dietro e praticare quest'altro taglio all'interno dovrò crearmi anche la scassatura per poter alloggiare la presa di corrente a cui deve rimanere appeso il mio portacellulare quindi farò così e così ok, adesso cominciamo a tagliare come vi ho già spiegato il taglio a balza si apre poco e si ferma con la cerniera in questo video non vi dirò di stare attenti perché già vi ho fatto un video sulla sicurezza nell'uso del taglio a balza che vi clicco qui per andare a vedere come si usa il taglio a balza quindi prima di fare questo lavoretto andate a vedere come si usa il taglio a balza quindi io mi insinuo piano piano all'interno e stando molto attenta a non tagliarmi piano piano pratico il taglio lungo tutto il bordo che ho segnato ok, et voilà quello che avremo è questo ve lo faccio vedere anche in un altro colore in cui si vede meglio ho questo, vedete? una cassettina ho questo vi faccio vedere varie marche ho questo delle casettine dei cestini all'interno dei quali alloggiare il cellulare già fa la sua funzione ma sa di poco diciamo la verità è un po' freddino anche se il riciclo è stato fatto quindi il fine del gioco l'abbiamo perseguito adesso vorrei decorarlo e vorrei decorarlo proprio con i pisla e allora verso un po' di pisla sul mio tappo scelgo i colori da mettere e vado e il colore sarà maschile o femminile a seconda a chi dovremmo regalarlo io qui essendo questa quindi questo arancionino lo farò arancione e rosso il cuore bello sparaflesciato vi consiglio di adottare come misura anti-esaurimento nervoso l'ausilio di una pinza in modo da prendere i pisla e metterli direttamente nei tondini perché con le dita gli adulti i bimbi riescono bene ma gli adulti veramente smuovono i nervi e adesso riempiamo alla velocità supersonica tutto il nostro cuoricino ok il nostro cuore è pronto non ci rimane che attaccare il nostro ferro d'estilo a una presa si poggia la carta forno e piano piano si passa il ferro d'estilo questa operazione naturalmente devono farla gli adulti non i bambini i bambini possono mettere i corallini e poi gli adulti li fanno fondere stirandoli sul retro vedrete spandersi il corallino e adagiarsi su quello accanto e a quel punto avrete la certezza che è pronto perfetto facciamo raffreddare vi consiglio di fare raffreddare in forma tanto raffredda in 3 secondi quindi togliamolo e adagiamolo sul piano è ancora bollente e mentre aspettavo che la pistola a caldo si sistemasse ho fatto anche lo smile per i maschietti con gli occhi a cuoricino dai questo è carino anche per un uomo e anche qui come prima si stira e voilà e anche il nostro smile con gli occhi a cuoricino è pronto attacchiamo i nostri soggettini alle bottiglie porta cellulare senza ustionarci con un po' di colla a caldo che è la più tenace in questo incollaggio teniamo pressato guardate che carino vi faccio vedere col cellulare dentro tappete voilà questo poi va appeso alla presa di corrette che passerà qui e rimarrà attaccato mentre carica con il filo attorcigliato qui tutto attorno la presa qui è senza fili per casa e in qualunque posto siamo potremo caricare il nostro cellulare e in macchina potremo appendere stando certi che lui non cadrà non è una figata è troppo 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 carino no troppo troppo carino troppo carino per il vostro lui vi consiglio questo allora niente basta vi lascio alle foto dei vari modelli che ho fatto io e noi ci rivediamo dopo ciao ciao Visto che carini i nostri portacellulari decorati in pisla, tutti colorati, tutti personalizzati, ognuno diverso da un altro e tutti carinissimi, facili da pulire, basta lavarli con acqua fredda, quindi sempre molto utili, facili da portare con noi perché sono di piccole dimensioni, quindi si mettono in borsa o nel cruscotto della macchina e sono sempre a portare di mano, quindi spero che questa idea regalo, che io vi ho messo per San Valentino, per Via del Cuore, ma io per esempio con i miei bimbi a scuola lo sto facendo come regalino della festa del papà, quindi anche un'idea carinissima sia per la festa del papà che per la festa della mamma, sono delle idee jolly che valgono un po' per tutte le festività, dove si vuole dare un occhio al risparmio, un occhio al riciclo e un occhio speciale alla creatività. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando regalatemi un bel pollice in su, tutto di pisla e iscrivetevi sempre sulla pagina Facebook, non vi aspetto per chiacchierare con voi in continuazione e poi vi aspetto anche sul blog, i link di tutti i social li trovate qua sotto, c'è anche Instagram, cercate Arte per Te anche su Instagram, vi aspetto anche sempre su 2Q1K, il mio secondo canale, vi metto qui il link per accedere direttamente ed iscrivervi, siamo ancora pochini di là, quindi vi aspettiamo numerosi. Nell'augurarvi uno splendido San Valentino vi rimando al prossimo video, da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!